Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo andate su FIFAUltimateTeamCoins.com E con il codice GRAN avrete il 5% di sconto Bene ragazzi! In coro! Cadroia! Ma chi è quello lì? Dosatos? No, Camus Rodriguez Benzimace, non è che basta guarda un altro Banciukic Dai eh, oggi Oddio è vero Noi siamo i blu eh Partiamo bene, partiamo bene Su Bendo Su Bender We not surrender Ok man Ma che è maaah Mi fai provare carciotamo perché questi io non ho male E ti vuoi scherci che sta partendo E per chi arriva quella destra Gorda dai Capotana porca o Non pensi me Ma che partirei Ma che bufaletto? Oddio bufaletto è scatenato Oddio Passra No, guarda, mi tu sei distratto per guarda chi era No E fatti che pure si è alevi agli a Si no, sei un tanto fa come cazzi io pare guarda in mezzo ai gambe fuori gioco dai 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 allegri olè 2 a 0 incredibile benzema strano eh famo zero punti in divisione oddio un porco cani non è mai che ci dice culo quella volta o mai 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 eh no giudano stato mi sa mezzo via non via via o questo ma solo questo pao per esempio il mondo del mondo che c'è l'attacco voglio fare solo questo se ti capi ma che cazzo mandami mamma mia che cazzo te ne sei andato poi capito perché pensavo che era il tuo invece sta fuori con un altro giocatore capito capito ma una volta che è pace capace ma capire che puo che puo che pace fa un culo oh ti giudo guarda che cazzo da lungo hai fatto che non t'ha chiesto nessuno poi ti prego no no guarda sta merda fallo rigori vai così dammela cos'è il tale fallo eh sempre adesso olè andanè 2 a 2 ma tu ne abbiamo altri due ma sicuro però ti vediamo fino a fine video che bella cosa vai tacci tu a pedro pedro stacca titolo angolo ah non ha tirato da lui cross in mezzo e tolta e rete mangi che c vai vai dalla subito che cazzo fai da ho sbagliato voglio fare passaggio filtrati passaggio filtrati col pochino fammi capire ho sbagliato mandavolo sopra eh quello volevo fa passaggio filtrati mi preda attiva la mattata non fa che mi dica passa subito ma come l'ho accorto che era lui io con lui non ci voglio giocare ma come buvalone buvalone ma mi dica mi dica ha segnato no appunto quindi è un buvalone come vi farlo in mannale andermina da come ho avuto io ti ammazzo che cazzo è quello che vuoi fare io ho il tiro posso fare alla fecia casea si importa sto stronzo tutto a mezzo da te se si fa tira 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 cristo non aspettare che chi si escono dall'area capito ma mi fai un po' di rincorsa ma come rincorsa ma tira bellissimo lui tira dei stecche madonna domani buonai domani cazzo guarda dove cazzo vai un po' che è scandaloso mi hai fatto la skill per sbagliare guarda guarda ma perchè? zitto non ti cazzate ma guarda con che cazzo sto rientra ha sbagliato no così è così non è che si sbaglia come l'altra volta ma magari bello l'hai tranciato gli hai fatto poco male carcola manco detesta sto stronzo porco 2 la parada più bella della storia Alves più utile soprattutto prossimo mezzo no cazzo dalla subito spero che lei dà quello giusto bravo così una cazzo e che perché la cosa non 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 sa no bufalino che cazzo ne pare ma che un cazzo ho fatto c'è questo qua talmente tardo che io ho fatto la finta a lui non se ne può no 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 come schiervo eccolo che cazzo era c'è da quanto parla si come cazzo ha fatto una miglia di otto ogni pallone tutto davvero bravo questo vi fa ho fiducia in te ho fiducia in te ho fiducia in te bufalinomino bufalinomino cristo devi morire male orco 2 bruciatelo burton o qual'è con void trent dai 2 e r 3 d molto lombardano va bene così buona perciò avversi avrò io c'è un'altra cosa uo che cazzo è un'altra giugno del buco del vuoto no no non so la mia regola giudo buono io volevo vedere dante come è saltato guardate bene dante che salto e l'uomo camados porco e schifo e non svolto spazio ecco quadrato eh GERNADES 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 L'ottotototuesimo oddio ma vabbè che cazzo è partita la partita sto f... da paura regà come schifo ma si fa con in cula porco schifo e' uno sballo e' madonna quanto vuole perla oh il porco ha il pila quindi non è lo santo ahahah ahahah ladro stronzonfame oh cazzo se non lo so basta lo scrivo no 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 non c'entra da scivolata ha fatto i portieri e' usciuto che prenda la valla me t'ho detto no no hai sentito cioè guarda che se la passa e' gol stupido perchè non stavano fuori gioco oh oh vabbè si no vabbè dai madonna che Dio da non si possono perdere ste partite così goddinci porco vabbè la partita che avevamo vinto e' stata persa non sappiamo neanche noi come comunque però vabbè regà e' supportrami hashtag alla prossima ciao 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 .